Buonasera mia cara, la signora è in casa? Per voi sempre, Visconte. Grazie tesoro. Ai che saide, mia strega divina. Visconte. Ai che saide, ho bisogno di te. Non parlare, indovina il tuo pensiero. Tu vuoi la ricchezza, la ricchezza che rende potenti. Ai che saide, cara, sono molto più ricco del Granduca e assai più potente di lui. Vuoi la bellezza allora? La bellezza, io? Anche quella, se permetti. Voglio Esmeralda. Vuoi diventare principe consorte, vuoi sistemarti, ah? Lascia perdere i tuoi apprezzamenti. Per me Esmeralda è... è tutto. Quello che mi domandi oltrepassa i miei poteri. Chiederò aiuto. Evoca il re dell'amore rubato. Evoca il signore dell'amore carpito e portalo a me ovunque sia andato. Capito? Ma Grebino c'è bisogno del tuo aiuto. Non parlare. Io ti darò la sua mamma. Esmeralda, in cambio di un favore, avrai tutto quello che vuoi. Voglio la vecchia lampada che Aladino tiene sempre con sé. Come faccio a prendergliela? La custodisce in camera sua. Io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me. Io ti do Esmeralda e tu mi dai la lampada. Io ti do una cosa a te, tu mi dai la lampada.